Figlio dell'attore toscano Aldo Reggiani e dell'attrice pugliese Caterina Costantini. Debutta giovanissimo nel film TV Favola, 1996, reggia di Fabrizio De Angelis, con Ambra Angiolini. Nel 1997 ha una parte nella piovra Ottolo Scandalo, regia di Giacomo Battiato, dove interpreta Tano Caridi da adolescente. Nel 1998 esordisce nel cinema con il film L'ultimo capodanno, regia di Marco Risi, successivamente lavora in piccoli ruoli soprattutto in varie produzioni televisive. Il suo primo ruolo da protagonista è quello di Fernando nel film Rosa Funzecca, 2002, regia di Aurelio Grimaldi. Nel 2005 diventa popolare con il ruolo di Antonio Pironi nella serie TV trasmessa da Rai 1. Orgoglio capitolo secondo e soprattutto con quello di Simona Starita in Grandi Domani. In onda su Italia 1. Sempre nello stesso anno gira il film Melissa P. Tratto dal libro Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa Panarello. In seguito gira Scrivilo sui muri. 2007. In cui è protagonista insieme a Cristiana Capotondi. Regia di Giancarlo Sarchilli. E Polvere. Regia di Danilo Proietti e Massimiliano De Piero. Quest'ultimo più volte rimandato per poi uscire a maggio del 2009. Tra il 2006 e il 2008 appare nuovamente su Rai 1. Con il ruolo di Antonio Dentici. Nelle due stagioni della serie TV Raccontami. Nel 2010 appare su canale 5 in R. I.S. Roma dei Litti Imperfetti. Nel quale interpreta il sottotenente Emiliano Cecchi. Ancora sul grande schermo appare nei film. Fratelli. 2007. Regia di Andrea Di Bari. E la siciliana Ribelle. 2009. Regia di Marco Amenta. Inoltre partecipa ad un episodio di Facebook Il Film. 2009. Pellicola in otto episodi ispirata al social network Facebook. Del 2010 sono Bacia Mi Ancora. Regia di Gabriele Muccino. L'imbroglio nel lenzuolo. Regia di Alfonso Araue. Le ultime 56 ore. Regia di Claudio Fragasso.